Tre operazioni di soccorso con altrettante persone portate in salvo, 18 uomini impegnati giornalmente, tre mezzi navali impiegati con altrettanti via terra e il resoconto dell'operazione Mare Sicuro 2017, messa in atto dalla Capitaneria di Porto di Barletta per il lungo ponte di Ferragosto. Trani, Margherita, Biceglie e proprio Barletta al centro di un accurato pattugliamento e di controlli per verificare sia il rispetto delle ordinanze balneari che il corretto esercizio dell'attività da di porto. Tutta l'operazione ferragostana, tuttavia, ha avuto una fase preliminare caratterizzata da una capillare attività di informazione e divulgazione a favore degli operatori e cittadini, circa le norme basilari per un corretto uso del mare e delle attività che sullo stesso è possibile esercitare. L'attività di vigilanza ha consentito anche di verificare la presenza presso gli stabilimenti balneari di tutti i sistemi di sicurezza della balneazione, ma anche l'impropria e non autorizzata occupazione di spazio con la polizia demaniale. La Capitaneria di Porto ha infine accertato e verificato diverse navi per accertarne lo stato di sicurezza. Dalla Guardia Costiera ricordano come sia particolarmente importante la conoscenza e l'utilizzo del numero blu da chiamare per le emergenze, e cioè il 15-30.